Sì, sì, stiamo bene, è un buon periodo, ci stiamo allenando alla grande, il mister è contento, noi anche, ora prepariamo la partita di domenica al meglio come sempre. Io l'ho rivista la partita, abbiamo fatto un grande primo tempo, se fosse finita 3-1 non ci sarebbe stato niente da dire, nel secondo tempo loro si sono chiusi tutti dietro, è sempre difficile fare gol a una squadra che si chiude la prima metà campo, trovavamo spazi, però ci abbiamo creduto, ripartiamo dalla prestazione, poi è stato un risultato positivo, un punto, però abbiamo perso due punti. È una buona squadra, è una squadra molto fisica che fa della corsa la sua forza, ho visto che ha giocatori che corrono tanto, pressano alti, noi ci stiamo allenando per farci trovare al meglio, affrontare questa gara. Andremo lì a giocarci, l'avviso aperto e cercare di vincere la partita. No, calcoli non ne facciamo, per noi ora sono nove finali, ce la giochiamo con tutti, partita dopo partita e pensiamo una partita alla volta. Ma a livello personale, sinceramente, vorrei fare più gol dell'anno scorso, ancora ci credo.